Dopo aver assegnato nelle scorse settimane una proroga per rispettare gli obblighi di legge, l'assessorato regionale agli enti locali adesso annuncia che la procedura di nomina dei commissari per i comuni che non hanno ancora approvato i bilanci è già in fase molto avanzata e l'intervento sostitutivo da parte della regione è imminente. Sciacca e a rischio commissariamento sono stati esitati dall'aggiunta alcuni degli atti propedeutici ma ancora deve essere approvato il documento unico di programmazione e il bilancio. Pare che entro la fine del mese saranno licenziati entrambi ma poi ci sarà tutto l'iter dei revisori dei conti e del Consiglio Comunale che richiederà all'incirca due mesi. Una situazione che non riguarda però solo Sciacca. In base ai dati dell'assessorato enti locali aggiornati al 6 maggio il documento di programmazione finanziaria è risultato approvato da 143 amministrazioni ossia il 35% del totale degli enti locali in Sicilia. Il bilancio di previsione ovvero lo strumento attraverso cui l'ente programma le attività e i servizi da offrire ai cittadini nel triennio è condizione essenziale al fine di poterne autorizzare le spese eppure anche quest'anno si registra un considerevole ritardo nella maggior parte dei comuni siciliani. Intanto la Regione ha approvato il piano di riparto del Fondo per gli investimenti dei comuni per il 2024. Il decreto a firma degli assessori alle autonomie locali e all'economia prevede l'assegnazione ai comuni dell'isola di 115 milioni di euro previsti dall'ultima legge di stabilità. Le risorse saranno ripartite secondo i criteri previsti dalla normativa ovvero il 90% in base alla popolazione residente e il 10% in relazione al territorio. Al comune di Sciacca sono destinati 713 mila euro, 472 a Ribera e 274 a Menfi. Le somme assegnate potranno essere utilizzate dai comuni anche per il pagamento delle quote capitali e dei mutui accesi per spese di investimento. E a proposito di bilancio si è resa necessaria una variazione a seguito dell'arrivo del finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro per la manutenzione e messa in sicurezza della via dei Sicani in località San Marco. Un progetto finanziato nell'ambito del PNRR che andrà appaltato entro fine ottobre.